Mentre gli eroi procedono verso est, gli eserciti di Sauron marciano a nord di Dol Guldur, raggiungendo un insediamento umano sul fiume Keldwin. I nani del vicino Erebor, guidati da Redain, giungono in aiuto degli alleati umani del sud. Prima della battaglia, Redain ha inviato un messaggero a Ray Tranduil, degli Elfi del Bosco, chiedendo il suo aiuto. In attesa dei rinforzi, i nani devono combattere una battaglia disperata. La battaglia volge al peggio, le forze sono disperse e l'insediamento è perduto. Ci serve un colpo di fortuna o è finito. Per il martello di Gloyne, siamo tagliati fuori. Dobbiamo tornare al porto con il resto delle nostre forze o siamo finiti. Hello, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi già siamo nel vivo della battaglia. Con il Signore degli Anelli, battaglia per la terra di mezzo 2. Guidando i nani a difendere un insediamento umano che sembra molto quello visto in... The Hobbit? O sono io che mi sbaglio? Ma sembra proprio quello. Dobbiamo metterci in salvo. Catapulte... A non finire. Avanti, i nani! Nani! Gli umani! Salviamo questi umani! Nani! È arrivato il nostro re addetto. Ho voglia di combattere un po'. Dov'è? Redyne! Eccolo! Che fa questo furia donante. Ok, questo comando. Più forza, più armatura, più tutto. E la mia compagnia non si corrono rischi. Avanti, i nani! Avanti, i nani! La potenza dei nani è senza... È un troll. Carò da guida! E la mia compagnia non si corrono rischi. Oh no, un Nazgul! Oh no. Oh sì. Sì, sì, è Nazgul. Nazgul. Ataccare, attaccare! Juni! Gli preząerlo! Aiuto! Aiuto! Allearmi! Allearmi! Alla etc. Allalerin! Allazuk! Salvati! Ucciditi questo! Lasciate che sia Bombadil A occuparsene Che pezze Che abbiamo preso Mamma mia Quello è martellino Non è che ci hanno fatto male Di più Scusa ma questa no? Eh sì Più esperienza Più Resistenza Aspettiamo che si Riprendano le nostre povere unità Approfittiamone per vedere Le nostre unità Ah queste sono quelle scarsine Queste sono quelle belle Guarda qua Che nessuno resti indietro Nostro eroe Che figo Possiamo sbloccare qualcosa? No Incontri con l'esercito Di Dain al molo E questo non era il nostro esercito? Il re è andato avanti Senza esercito Raccogliete quei soldini E se dicevo che sembra L'insediamento Quello dell'Hobbit Perché Mi pare ci fosse anche la La torre al centro Oh no C'è un altro Beh non è potente Però quello Non è ero Massacrare Massacrare E Arcieri Ciao Oh ce l'ha Con gli arcieri Maledetto Arcieri Royer Mamma mia Non fermiamoci Che si seleziona Tutti gli eroi Andiamo un attimo Aspettare Perché Morte Ce ne libereremo in fretta Il fuoco Attenti alle fiamme Ma questi? Siamo sotto attacco Pura l'haga da volta Tie Aiuto Aiuto Il tuo arrivo Il tuo arrivo è fonte di speranza Non vedo l'ora Presto Le nostre strutture Sono anche qui Via D'accordo Compagni Ci stanno Vai Adesso Massacriamo Queste Loro Fila Non c'è problema Per i colli ferrati Ora si che sono Orrabbiato Prepariamoci Nani Abbiamo un pozzo minerario pronto Alle armi Nani Infila Una salva Forza Proteggiamo questa zona Forza Nani Forza Nani Massacrare Nani Entriamo La dentro Dobbiamo Muoverci Muori Bestia Infernale Finalmente Si combatte Avanti La struttura È nostra Avanti Ok Prendiamo questo Vai qua Questo che ci dà Ci fa Dobbiamo proteggere le nostre cose Dobbiamo proteggere le nostre cose Ah qui c'è dell'oro nascosto Come si fa a giocare questo gioco senza musiche Possibile Andiamo Stiamo sempre attenti Che il piede sia leggero Muoversi Proteggiamo questa zona Muoversi I noni hanno qualcosa da dire Ma va Potremmo usare questo Per arrivare dove Qui Dobbiamo andare a salvare quelle Io sono il re Non fermiamoci Nani 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 Speriamo Non c'è tempo per questo Alla battaglia Conquistiamo questa zona E prepariamo un contrattacco C'è un molo Dovremmo conquistarlo Per lanciare un contrattacco Oh Devi prendere questa Non c'è gente qua Ecco perché Siete 8000 Potete massacrare questi Ok Prendi questa Prendi questa Ottimo Respingi l'assalto Dell'olifante Dove Oh mio dio L'olifante Si mette pausa In questo gioco Bombadil Bombadil Ci stanno attaccando I noni hanno qualcosa da dire Sulla questione Buttatelo giù Aspetta Aspetta Possiamo sbloccare qualcosa Uuuh Evo che ero Irim Stordisci Bomba Bombarda pure Questo non è male Facciamo bombarda E il prossimo E il prossimo E il prossimo Facciamo Iroio Che abbiamo sbloccato Un altro Un altro Olifante Fuoco Uomini Uomini della valle Quali rovine Quali rovine No Che bello Uomini della valle Dove andate Di qua Di qua Di qua Badil Non c'è problema Dai 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 Massacrate questa Adesso questa Qui ci stanno Massacrando a noi Au Vai questa Ottimo Oh no Wyrm pure Ma che cavolo E' un maledetto Wyrm No no Qui c'è la catapulta Distruggere Distruggere La catapulta Bombardare Porca miseria Torniamo alla Campa Ci attaccano Stanno distruggendo Il nostro campo Oh e questi Lottiamo con valore Attaccare Attaccare Catapulta Tocca far fuori Le catapulte Ragazzi Nooo Ma non c'è un modo Per fare Un costruttore No eh Dobbiamo fare Con quello Che abbiamo Proteggiamo Proteggiamo le barbe Distruggere La fortezza Di Mordor Conquista Tutte le Locande E gli avamposti Dan deve sapere Tutte le Locande E gli avamposti Non l'ho Conquistato Tutti Uno Due Questo l'ho Conquistata Chi ha chiamato I guardiani Che mi manca Ma sembrerebbe Tutto Ah qua Afferrate le armi E mio compagnia Non si corre Informazione Falange Falange Pronta Alla battaglia Prepariamoci Nani Problema E ci hanno Mezzo Massacrato La fontana E non c'è Modo Di Ricostruirla Afferrate Le armi Mannagina Dovremmo Aver finito Adesso No C'è ancora qualcuno Che non è In mano nostra Vai Andiamo a prendere Quest'oro Intanto Andiamo a vedere Che ci stiamo Dimenticando Qua Qua Ecco Qua Uomini di valle Uomini di valle Siate forti Amici Barbuti Avanti Nani Venite Nani Nani Arriba no Sono il re Sono il re Alle armi Ho voglia di combattere Uno dopo l'altro Che succede qua C'è la fortezza Forza Abbiamo finito L'obiettivo Secondario Si Possiamo fare Ancora Le unitarie Possiamo potenziare No Frecce nere Guardiani E mia compagnia Non si corrono rischi Uomini di valle Prepariamoci Nani La falange Porterà un po' Dobbiamo proteggere Le nostre cose Ecco la fortezza Nemica Attaccare Attaccare Andiamo Sono il re Morte Nani Siamo più vicino Morte Arriva il Nazgul Ma le aquile Questa Non la possiamo Piazzare E' guai Occultiamo L'unità Oh 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 L'accento Raccogliete Quelle barbe Avete Andiamo Al costello Torniamo Alla capa Meta Informazione Falange Non perdiamo Il ritmo Cerriamo Le file Nani Allora Adesso Si che sblocchiamo Questo Accetta Così arrivano Ieroir Ottima Aspettiamo Aspettiamo Le rinforze Ah è uscito L'omino A riparare Bene Mica Che c'è qui Un altro fortino Andiamo a distruggere Quel fortino Dove stanno I soldati Andiamo a distruggere Qui così Non ci attaccano Alle spalle Charge Cadavolta Ci stanno attaccando I fuoco Uomini di valle Nostri posti Assaltiamoli Attenzione No No Arcieri di valle Buttiamo giù tutto Assottichiamo Le loro file E l'anzia A pienizio Ho voglia di combattere Uomini di valle Daremo il nostro aiuto Occediamoli Alle armi Alle armi Non ci vorrà molto Ora si che Rato E mia compagnia Non si corrono Non afferrate le armi Abbattiamo l'edificio L'edificio Ancora Ancora Buttiamo giù tutto Lottiamo con valore Non torneranno più Dopo questo Beh Ne abbiamo massacrati Finalmente Tutti vicini Che vi devo curare Dai Dai Un pezzettino Dobbiamo proteggere Le nostre cose Davanti Andiamo Dobbiamo proteggere Le nostre cose Altri soldati Vai Ho visto che prima Alcune unità Si sono Potenziate Mitria Adesso si Vai Potenzia Potenzia tutto Guarda qua Allora Gli uomini Gli uomini di valle Questi fanno La formazione Anti-unità Voi dovete andare qua Però Ok Pronti al mega attacco Ok Uomini di valle Control 2 Attaccare 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 la fortezza reddine è un attimo morto ma tanto non era l'obiettivo principale vero tra l'altro pensavo che se morisse si potesse rievocare invece no e questo è il recinto degli olifanti magari buttiamolo giù ci abbiamo fatta qualcuno si attacca qui la prima ondata di assalitori è stata respinta ma migliaia di nemici si avvicinano il messaggero dei nani fa ritorno da bosco atro con tetre notizie gli elfi non forniranno alcun aiuto essendo anch'essi in pericolo reddine deve tornare nella città di valle dove opporrà la sua resistenza e un'altra missione portata a casa qui abbiamo rischiato infatti il grafico ha fatto vum tutto giù ma ce l'abbiamo fatta anche se dain è stato un attimino ferito però vabbè voglio dire contro gli olifanti carichi a testa bassa che ti aspetti di sopravvivere? no! e vedremo un po' nel prossimo episodio che cosa dobbiamo fare perché purtroppo gli elfi non possono venire in nostro aiuto dato che anche loro sono sotto attacco come abbiamo visto ce la faremo? speriamo proprio di sì allora fatemi sapere come sempre nei commenti le vostre idee, le vostre impressioni ricordate di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale come sempre io sono Ray Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video ciao! ciao